Ciao Fabio, non sei mica stato molto coerente con la tua solita filosofia? La filosofia che se la gioca fino all'ultimo, si attacca sempre fino al 95esimo, anzi il centesimo, per cercare di vincerla. No, stavolta no, stavolta a metà secondo tempo hai eliminato l'attacco del parma, hai tirato via tutti, hai detto vabbè dai mettiamo i balini in attacco, che tanto, dai, alla fine l'hai fatta capire, ti saluto perché ti dico, semplicemente hai fatto capire che non volevi rischiare, non volevi giocartela fino alla fine, volevi tenerti l'1-1, il punticino, perché hai capito che secondo te andava bene così e boh, anche perché tu dici di no, ma martedì si gioca e te hai fatto il pensierino a martedì, col Cosenza in casa, hai detto no, io mi tengo buoni giocatori, sta partita l'1-1 col Como va bene, per come si sta mettendo mi accontento così. Non va bene, io non sono d'accordo, comunque, tu le tue colpe ce li hai caro Pecchia, però stavolta diciamo che secondo me dobbiamo ancora ringraziare Paperzola, voi direte di no, però è lui che va a mettere in difficoltà Circati, Circati per l'amor del cielo, stavolta la combina brutta, però alla fine la palla arriva poco dopo il centrocampo, cioè riesce a spazzarla via, ha fatto un errore, ma ha recuperato, l'ha buttata praticamente quasi al centrocampo, quindi lì, ok, la squadra era in fase d'uscita, però cosa succede dopo? Succede che il Como fa un bel filtrante per Verdi, va bene, però Verdi cosa fa? Verdi guarda bene dove cazzo è Circizola e dice ma Circizola, cazzo ma sta facendo il difensore centrale, aspetta allora che alla porta non c'è nessuno, tiriamo una palla bassa e la buttiamo dentro. In effetti faceva gol perfino Pluto di tacco, no, con la febbre, perché ci riusciva chiunque a fare quel gol lì, con uno che è fuori dai palli di 40 chilometri, allora io vi faccio vedere adesso perché qualcuno mi dica no ma non è vero, Circizola doveva uscire, no doveva uscire, cioè sinceramente guardate dove, vi faccio vedere poi giudicate voi, allora secondo voi, spero che si veda bene, anzi si veda sicuramente bene, guardate qua, qui è dove praticamente tira Verdi con due difensori del Parma praticamente che stanno recuperando attaccati a lui, non poteva fare un mezzo passo in più che era chiuso da due giocatori, e cosa fa Circizola? Massimo aspetta che sto fuori praticamente dalla mia area piccola, cioè considerate che il tiro di Verdi è stato praticamente ridicolo come potenza e se stava dentro i pali questa palla qua Circizola la prendeva al 90% almeno, ma invece cosa ha deciso? Ha deciso di uscire dai suoi pali, no, e ovviamente siccome la distanza diminuisce, un pallone basso da più vicino e diventa come un calcio di rigore o addirittura anche peggio, e quindi il risultato è questo caro il mio Cicci, caro il mio Cicci la colpa è tua, perché se tu stavi fra i pali, te quel gol lì non lo prendevi, voi andatevi a vedere il replay del gol, di questo gol qua, una palla filtrante arriva lì con due giocatori che stanno chiudendo nel Parma, ok? Lui è furbo perché tira subito perché cosa fa? Vede che il portiere fa falle, quindi se quel tiro lì, voi andate a vedere il tiro, come avviene la palla dove va a finire e con che potenza ci va a finire, se lì Cicci Zola era sulla sua linea, ma non dico solo sulla linea, ma anche un mezzo metro avanti, un metro avanti, si coricava come un bradipo, no, e la prendeva, invece cosa ha fatto? È uscito di 40 km, è ovvio che la distanza diminuisce, uno ti tira furbescamente una palla bassa e quindi non hai tempo di reazione, poi a dire la verità non ci ha neanche provato mezzo di piede un cazzo, praticamente l'ha guardata, cioè poi dopo si è buttato quando il pallone era già passato, però io dico ci sta magari appunto è lui che ha ridotto troppo le distanze, quindi praticamente è uscito per niente, perché c'erano due difensori, ripeto, che stavano chiudendo come una tenaglia su Verdi, ma lui è tirato subito perché ha visto che il portiere era a farfalle e quindi abbiamo beccato gol. Allora, sintetizziamo tutto in questo, diciamo che, allora, il Parma ha sbagliato 40.000 occasioni da gol, Dennis Mann stavolta ha fatto il Miaila e approfitto per fare i complimenti a Miaila perché negli ultimi tempi sta giocando bene, ma non solo, in questa partita mi ha fatto vedere una cosa che io mi aspettavo da Miaila da sempre e cioè l'altruismo, cioè in questa partita non sarà stato perfetto, ok, però quel pallone per bene al secondo minuto che c'è va sul vantaggio, no? In altri momenti Miaila avrebbe tirato, ma ha tirato 99 volte su 100, questa volta Miaila ha fatto un bel dribbli tipo Cristiano Ronaldo e poi dopo ha insistito e alla fine ha appoggiato bene un pallone che era impossibile non sbattere dentro. Quindi grandissimo altruismo, due passi dal portiere, devo dire, e quindi complimenti, complimenti a Miaila per l'altruismo che va sul gol del 1-0 Parma. Complimenti invece non vanno al Cicci Zola, al Paper Zola, come detto, per la stronzata che è stata fatta perché l'errore l'ha procurato lui. Circati comunque l'ha respinta praticamente a 10 metri dopo il centrocampo, quindi comunque non si può dar certo tutta la colpa, ma neanche il 20% a Circati. Dopodiché l'azione finiva nel nulla, nel nulla, perché un tiro da lì col portiere in porta la prendeva tranquillamente, non era né un missile di Adriano, né un tiro a giro di Baggio all'incrocio, ecco non era niente di tutto ciò, era un tiro normalissimo raso terra che un portiere che era, diciamo, nella posizione corretta l'avrebbe preso tranquillamente. Quindi per me abbiamo perso due punti comunque, uno per la rendevolezza di Pecchia che a metà secondo tempo ha eliminato la squadra in attacco e quindi ha favorito il Como e quindi ha rischiato anche di beccarle dopo, abbiamo rischiato veramente di beccare il 2-1 Como, quindi errore di Pecchia. Due, errore di Cicci Zola clamoroso perché se stava in porta quel tiro lì non beccavo neanche gol io se mi mettevo una benda davanti agli occhi, ok? Lo paravi, avevi tempo di pararlo 40.000 volte e basta e cos'altro? Il terzo errore è assolutamente men e som che si sono mangiati di ogni e vabbè lì però ci sta, ogni partita adesso ci va di buttare al vento delle occasioni e quindi va bene. Finito, chiudo, è stato abbastanza breve, peccato, peccato, come vedete i colori sono comunque positivi perché comunque un pareggio col Como alla fine fuori casa va bene, manteniamo delle buone distanze e quindi va bene così. Però attenzione caro il mio Pecchia, io te lo dico, allora tu ci hai messo del tuo, anche se la responsabilità principale è Cicci Zola sta partita per me, ok? Però tu ci hai messo del tuo perché? Perché semplicemente hai chiuso la squadra a metà del secondo tempo, un po' troppo presto, magari agli ultimi 10 minuti ci potrai stare, ma così presto no, non è la tua filosofia solita dai. Adesso siccome li hai fatti risparmiare, io martedì a quel cosenza voglio vedere due tra zero, cioè voglio perlomeno vincere assolutamente la partita, visto che li hai fatti risparmiare e voglio vedere una bella squadra che attacca, ok? Non ci risparmiamo col cosenza, per l'amore del cielo, che bisogna vincere perché se no Venezia ha già ripreso due punti e quindi diciamo che è ora di smetterla, bisogna dare la sferzata finale al campionato nelle prossime tre partite in modo da far capire che è finita. Se no, se no rischiamo, se no rischiamo perché sembra che sei lì ma se te ne perdi due, gli altri ne vengono due, dopo ci sono ancora più di 30 punti in paglio, ok? Non bisogna scherzare e qua col com abbiamo un po' scherzato, abbiamo detto no c'è l'infrasettimanale bla bla, poi quell'altro là ci fa una cappella, ogni tre partite fa una cappella, ciccizzola dai là, è ora di finirla, ma poi, ma qualche volta, dunque adesso è stato bravo che non hai fatto giocare Osorio, hai fatto bene, no? Ok? Però voglio dire, ciccizzola, qualche volta un punk non si merita di starci con tutte le cappelle che ha fatto, eh? Dai ma fai giocare qualche volta a Turk, eh? Cosa dici? Covi? Fa quel cazzo che vuoi, uno dei due qualsiasi, ma non sempre ciccizzola dai là, orcozio ne ha fatti di cotte di crude, tra lui e Osorio, non si sa quanti punti ci ha fatto perdere, vabbè, vabbè, basta, lascio lì perché presto avremo un'altra partita martedì e quindi vi saluto ragazzi la, diciamo, questo post partita è finito, ci rivediamo per Parma Cosenza, forza Parma, la magia sia con voi sempre, ciao, forza gialloblu